Presto via libera per matrimoni ed eventi. Nei prossimi giorni potrebbe esserci una concreta ripartenza per il comparto dei matrimoni, ma ancora oggi non sussiste una data certa. Attualmente però quest'ultima sembra essere sempre più vicina e potrebbe portare alla ripresa del settore già dal mese prossimo. A dare speranza il ministro Maria Stella Gelmini, che postando un video sul suo profilo Instagram, ha dichiarato «Voglio dare una risposta pubblica alle tante sollecitazioni che ho ricevuto rispetto al futuro del wedding. Sappiate che la preoccupazione degli operatori, ma anche di tanti sposi che non vedono l'ora di fissare la data del proprio matrimonio e poterlo festeggiare, è anche una mia preoccupazione». La settimana scorsa ho incontrato alcuni rappresentanti di Federmappe a sui eventi, spiega la Gelmini. «Ho potuto constatare la bontà dei protocolli che avete suggerito al governo per garantire il distanziamento e festeggiare i matrimoni in maniera sicura. Sarà mio compito, nel c'è che il governo farà a metà maggio, sulla base dei contagi e dell'andamento delle vaccinazioni, contribuire a definire una data dalla quale il settore wedding possa ripartire». «Basta con le feste abusive e gli assembramenti», ribadisce il ministro. «Servono regole chiare. Occorre consentire a questo importante settore di tornare ad operare». Stando alle prime indiscrezioni, l'ipotetica data di ripartenza sarebbe fissata a metà giugno, a partire dal 15 del mese. Le linee guida per i festeggiamenti sono già state stabilite e prevedono rigide regole di distanziamento. Bisognerà riorganizzare gli spazi e indossare la mascherina ogni volta che si lascia il proprio tavolo. Non sarà possibile usufruire del consueto buffet e ai commensali sarà vietato toccare il cibo esposto che potrà essere somministrato soltanto dal personale incaricato. Tutto dipenderà dall'andamento dei contagi. Tra poche settimane il governo valuterà l'impatto delle nuove misure e in quell'occasione si deciderà il futuro del wedding, così come della presunta abolizione del coprifuoco.